Se tu si potessi portare tutta la Sicilia in una stanza, la terra, lo sole, lo mare, lo core, se tu si potessero gustare tutte le sovrutte in un posto solo, ve pare fantasia? No! Per il periodo natalizio sei alla ricerca di qualcosa che sia unico e particolare? Vai da Siciliano! Dove potrai gustare la famosa pizza scrocchiarella, una vera delizia che insieme alle pizze speciali viene preparata con farina di alta qualità che lievita per 24 ore prima di essere infornata. Per questo motivo sono ad alta digeribilità. Non solo, ma Siciliano ti propone più di 200 birre artigianali e 130 tipi di vino che puoi gustare abbinati, oltre che con le pizze, anche con i crostini e i prodotti tipici siciliani. Siciliano, il posto ideale per mangiare sano e con prodotti di alta qualità. Venite e assaggiate l'anima di Stuparadiso. Siciliano, mai rinzisele.